Grazie, Presidente. Io cerco di rispondere nel merito a chi ha, giustamente, dal suo punto di vista, detto che la riforma e la Costituzione non è il posto giusto dove andare a mettere delle cose che potrebbero essere messe in legge ordinaria. E potreste anche avere ragione se non fosse che ci avete portato in trent'anni a dubitare della vostra lealtà al vostro elettorato e ci aveste dimostrato tante volte che la vostra tecnica del dire non è questo l'atto giusto ma sarà il prossimo, è semplicemente un palliativo per perdere tempo. E allora noi, che invece il mandato del nostro elettorato lo rispettiamo, metteremo le stesse norme in ogni atto legislativo dove sarà possibile inserirle, perché ad ogni atto legislativo smaschereremo la vostra ipocrisia e collusione con chi ruba nel nostro Paese. La lega si rivolga con rispetto ai suoi colleghi.